Ma inizia... UAAA! Ma è a zero! È a zero! Che gribbio! Perché si vede Juwon? Ma come riconosciuto c'è una mascarazione qua? Ha riconosciuto subito! Dai! Aspetta! Ciao a tutti! Bentornati sul mio canale! Oggi torno con una reaction un po' molto in ritardo Un po' molto in ritardo... Stamattina! Ho aspettato 24 ore quasi! È uscita l'envy nuovo dei Monsta X Maletti Baldracconi Si chiama Shootout E basta! Hanno detto che è mortale! E basta! Eeeh... ci sono del nudismo! 3, 2, 1... vai! Via! Via! Non promette niente di meno! Urgh! Ah! Uuh... Che si chiama? Uuh... 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 Aspetta che... Uuh! Uuh! Oh ma... Uuh! 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 Ma perché... Uuh! ma è pazzo alza un pochino cos'è? ciap a ciap oddio ma cos'è? ma cos'è? ma cos'è? perché ciapirsi? ma donna cos'è? ma oddio cos'è? eeeh indaglia aiuta ma ma fan brodin madonna you won ma cos'è? non ti so no questi primi piani sconvolgenti madonna be 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 ma vacca in seria? eeeh questo la conosco questo masso è vero? porca vacca eeeh madonna ma no ma cos'è? è il video modo? io l'ho visto del nudismo uffa 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 ma il mio te l'ha visto smanisci con quel piercing cos'è? basta non lo so non lo so capire niente con la conzone ma non importa ascolta dopo e dai a queste piante nelle stanze avete rotto e se stanza riciclata per tutto madonna uffa cos'è? eeeh ti ho spiattinato ma c'è il mondo ovunque no ma cos'è la lady qua sotto? c'è ma un... non so un ragno madonna perchè c'è bianco nello? no no eeeh eeeh madonna cos'è? io l'ho sentito 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 ma cos'è quella cosa dietro? ma eeeh sembra un vampiro in questo momento ammazza eeeh ammazza però dimenditi ehhin eeeh vai via oddio perchè c'è il cambio colore? ma juan eeeh professori dobbiasi non so va ma Eri dai! Ma te fai un po' a causare quella cosa. Ma... queste eretti? Vai a pescare con le eretti, cioè... Scusa. Ho capito solo Ed Sheeran, non so per quel mattino. Scusa, non so per ovviamente niente. Oddio! Ma vai a sparare da un'altra parte. Cioè... Cosa ho appena visto? Cos'è questa cosa qui? D'ogni via! Allora... io non commento. Penso di aver già commentato abbastanza. Io ho sentito dire nudismo? Retti? Cos'è questa cosa? Jessica... parla un po' più... Pure! Ohhhh! Le tue ovaie? Come si sentono in questo momento le tue ovaie? Sconvolte? Non ho più budella, non ho più niente. Io vado... via! Rinchiudeteli in un bunker... a morire di fame... In una gambia anche te! In una gambia anche te! Vado in una gambia con loro! Non c'è un problema! Oh signore! Bene! Prego! Io? Io non so cosa commentare perché ho commentato buono! Io... ehm... You won! L'ho sempre detto! Per me... Su sto video ha tanto di cappello gente! Ma che cos'è? Per me... lui... E' il suo video questo? Ma lui è... E' il suo video... E' il suo video... E' il suo video... E' uno... Ah ok! No, passiamo l'altro video pensate! E' anche quell'altro ancora! Sono tutti... cioè sono tutti belli! Cioè no... Quello, quello, quell'altro... C'è anche io con quei capelli dispettinati! Non si tenerebbe a me! Un freaker! Della fitta! Ah... C'è anche io! Eh... quello è il bias della Giulia! Basta chiudiamo qua perché la mia testa non connette più e devo riguardarmi di giù! Ma quanto mai ha connesso la tua testa! Ho male da poco! Concludiamo qua! 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 Devono andarsene via! Detto questo... Ascoltiamoci la canzone che è meglio! Ascoltiamoci la canzone! Basta! Ci vediamo al prossimo video! Ciao! 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 Ciao!